Beh, le farine magiche, Ariano, le leonesse, tutto quasi ex novo, parliamo di un grande nuovo sponsor e parliamo di gente lungimirante, lungimirante, qui abbiamo con noi amico Loconte, allora, come si dice, l'ho detto all'inizio, chi ben comincia, lo sponsor porta già fortuna. Penso proprio di sì, stavo guardando il cartellone che abbiamo fatto lì in fondo, c'è quel campo di grano che è un campo di basket, guardandolo bene, e quindi coltiviamo grandi passioni, abbiamo detto, e penso che abbiamo iniziato benissimo. E quindi chi meglio di voi con le farine può coltivare le grandi passioni? Assolutamente sì, coltiviamo le grandi farine, ma ho notato la grinta che c'è in queste ragazze, anche se piccoline, ma di una grinta che danno insegnamento ai grandi. Quindi la finisca lei la frase, chi ben comincia è già? È a metà dell'opera. Grazie a tutti.